Il partito del materico di Cassoni, 2 a 0, perdeva la prima partita 3 a 2, ieri 2 a 0 di nuovo sotto in 10, di nuovo 3 a 2, 4 gol di Pera, di due partite, quindi non sembra che lui, gli ho detto guarda l'argomento una settimana è stato, sa cazzoni che cosa avrà combinato, quant'è in quel attimo il nostro progettore. Pera è stato uno dei giocatori che aveva giocato l'anno scorso, sì sì, è stato un giocatore che è così, arriviamo, noi avevamo fatto un pecero proprio perché è un giocatore che in quella categoria fa la differenza, poi credo che sia nota la vicissitudine che Pera non è arrivata, perché abbiamo fatto il valore. Senti, Bazzalani o Tissoli?